Mi rivolgo direttamente al sindaco Giorgianni. Sono alle dieci e mezza, dieci minuti fa, è entrato un pastore, un cane lupo nero, con il pelo un po' più chiaro sul petto dentro casa. È venuto per ammazzare i gatti. Allora, per fortuna io ho il mio cane, che ha fatto un po' da deterrente e quindi l'ha mandato via. Io non so neanche se adesso sta in giardino oppure no, ho chiamato i carabinieri che stanno arrivando. Noi siamo in balia dei cani randaggi, sindaco. Io non sono brava a fare video come lei, ma noi siamo in balia dei cani randaggi. Quindi o lei risolve questa situazione o io non so cosa dobbiamo fare, ok? Non si può vivere così. Noi abbiamo tutto il terreno recintato, con una rete alta un metro e mezzo, ok? Più di questo non possiamo fare, perché non siamo delinquenti, non siamo armati e non buttiamo polpette avvelenate, ok? Quindi per favore, la prego, a nome della maggior parte delle persone di Lipari, perché credo che tutti abbiamo questo problema dei cani randaggi, di intervenire presto, presto, presto. Ora stanno arrivando i carabinieri, ok? Perché noi non sappiamo se questa bestia enorme sta ancora nel nostro giardino. E per fortuna non abbiamo bambini qui, solo gatti che vengono ammazzati in continuazione.